Allora, oggi voglio dedicare la prima mezz'ora a chiudere un argomento che avevamo lasciato in sospeso la settimana scorsa con quel commento che vediamo lì, attenzione. E dopo vorrei raccontarvi o vedere insieme un esempio un pochino più articolato di un'applicazione nella quale si veda, si usa effettivamente il modello all'interno dell'architettura Model U-Controller perché finora di fatto a meno di qualche cosa fatto a livello un po' empirico, un po' intuitivo durante le registrazioni di laboratorio della settimana scorsa non abbiamo mai avuto bisogno di un modello esplicito. La settimana scorsa vi ho parlato di Model U-Controller ma poi abbiamo speso il tempo a parlare del controller. Sul modello a parole non c'è molto da dire però magari guardiamo insieme come possiamo pensare di costruire un'applicazione di esempio sempre nel dominio dei giochini. Allora, però partiamo da qua. La settimana scorsa avevamo implementato un piccolo programmino perché ci serviva per familiarizzarci con JDBC essenzialmente e avevamo detto io ho una classe DAO che attraverso la quale passano tutte le richieste verso il database e all'interno di questa classe avevamo ipotizzato un metodo che abbiamo chiamato CheckParola che controlla se un determinato oggetto parola è presente nel database, nella tabella che all'epoca si chiamava parola small perché conteneva solamente una manciata di parole. Ma questo funzionava, l'abbiamo visto funzionare, ci siamo posti però un problema. Noi qui stiamo costruendo un'interrogazione concatenando insieme tre pezzi di stringa. Il primo, il terzo pezzo, beh, il primo pezzo è tutto questo fino a qua, fino all'apice. Il terzo pezzo è un povero apice da solo messo là in fondo, ma la parte centrale è un P.getNome, quindi inserisco, come si dice in gergo, interpolo all'interno della stringa in un certo punto il valore di una variabile che mi viene in qualche modo passata come parametro. Allora, da dove provenga questa variabile, questo metodo ha tutto il diritto di non saperlo. Presumibilmente in qualche modo sarà anche coinvolto l'utente. Quindi noi possiamo immaginare che lì dentro, dove c'è quel P.getNome, vada a finire una stringa che l'utente ha scritto con le sue mani. Ok? Allora questo solleva tutta una serie di problemi. Perché noi stiamo prendendo, guardate dal punto di vista della sicurezza, stiamo prendendo un dato sporco che arriva dall'utente, può aver scritto qualunque cosa, usiamo questo dato senza nessun controllo aggiuntivo, vabbè, forse un nullge nell'organizzazione, ma a parte quello, senza nessun controllo aggiuntivo, lo stiamo inserendo all'interno di una stringa SQL. E poi stiamo mandando questa stringa SQL dalla nostra applicazione al database su una connessione su cui la nostra applicazione è autenticata. Quindi l'utente può usare la nostra applicazione come cavallo di troia per mandare al database delle stringhe di testo che ha inserito lui. E verranno accettate dal database come autenticate, diciamo, certificate dal nostro username e password. Voi potete dire, vabbè, ma che male faccio. Se l'utente scrivesse una qualunque stupidaggine al database arriverebbe, vediamolo un po' come, scomponiamo una stringa. Normalmente la stringa che va al database è una cosa di questo genere. se l'utente, questo è il risultato di quella query una volta che è stata composta, xxxx sono i caratteri che ha scritto l'utente. Se al posto di xxx lui scrive un'altra stupidaggine, vabbè, vorrà dire che con la select non trova niente. Più stupidaggine scrive, più la select non troverà nulla. Ok? Qual è il problema? Beh, il problema è se l'utente comincia a giocare con la sintassi SQL. Vediamo un esempio che se non ricordo male ho riportato qua. Adesso lasciate perdere request.getparameter che è un meccanismo per ottenere parametri in una pagina web, noi qui, leggete lì p.getnome. Ok? Ma dice, vabbè, questa è una query fatta esattamente nello stesso modo. La tabella si chiama users ma non cambia nulla. Ok? Provate a immaginare un utente che inserisca come parola xxx una cosa di questo genere, che inizia è proprio con l'apice. Come ti chiami? Mi chiamo apice punto e virgola di litro asterisco. O che parola vuoi cercare? Apice punto e virgola. Cosa succede? Ma succede che se io al posto di xxx andassi ad inserire una cosa di questo genere, verrebbe una query del tipo apice punto e virgola, delete, asterisco, from, in questo caso si chiama parola small, non users, e poi come finiva con un punto e virgola, no? Punto e virgola, trattino, trattino. Allora, letto in SQL, cos'è questa cosa? È un'istruzione select node from parola where nome uguale vuoto, e sarà una select che probabilmente non riscriverà nulla, punto e virgola. E poi fammi un'altra cosa. Cancella tutto il contenuto di questa tabella. Poi questo trattino, trattino è il simbolo del commento in SQL per far sì che da quell'apice, eventualmente qualunque cosa segua, venga ignorato. Allora, è sempre la stessa cosa. L'utente ha inserito da tastiera il suo nome, che è questo. P.get nome mi restituisce questo. Quando però questo arriva al database, il database non distingue che quell'apice lì, il primo, diciamo così, sul campo blu, è in realtà stato inserito dall'utente, mentre invece l'altro, e quindi non è proprio un apice vero che deve chiudere la stringa. Lui esegue questo come un unico comando. Quindi un utente malizioso è riuscito a modificare il comando che il database esegue. Non solamente modificare la parola che cerca, ma è quello ovvio, è ciò che vogliamo, ma modificare proprio il tipo di query, creando dei danni potenzialmente forti, gravi. In questo caso avrebbe cancellato tutti i dati. Tutti i dati. Cioè di peggio potrebbe rubare i dati. No? Con una select di tipo diverso. In questo caso una select che rispondeva vero o falso, c'è oppure non c'è, ma in una query in cui, non so, voglio avere l'elenco, non so, delle voci del menu per mostrare nella mia videata. E lui anziché le voci del menu mi fa l'elenco degli utenti con le rispettive password. Perché sono riuscito a convincere il database che il risultato della query è un altro. Il risultato di quella query che mi dà le password, in realtà dovrebbe darmi le voci del menu che voglio mostrare. È uno dei modi con cui gli hacker si divertono. Allora, come facciamo ad evitarlo? Perché noi lo vogliamo evitare ovviamente una cosa di questo genere. Dobbiamo tenere ben separato quello che è un dato che arriva dall'utente rispetto a quello che è la sintassi della query. Un modo c'è. Il modo sarebbe quello di massaggiare in qualche modo la query che arriva dall'utente cercando di rendere innocui i caratteri che hanno un significato speciale in SQL. Cioè ad esempio se noi, a ogni volta che compare un apice, ci mettessimo davanti un backslash, avremmo risolto il problema. Nel senso che avremmo detto all'interprete SQL che sta dentro il database, guarda che il primo carattere non è un apice da interpretare, ma è un apice da interpretare come delimitatore della stringa. Ma è un carattere normale, backslash apice, inserisco un apice dentro la stringa. Oppure in alcune varianti del SQL l'apice va raddoppiato, affinché un doppio apice viene interpretato come un apice singolo. Ma poi ho solo aperto il vaso di Pandora, perché una volta che ho messo a posto il singolo apice devo mettere a posto i doppi apici. Se per caso nella stringa c'è un doppio apice devo metterlo in escape. Se per caso nella stringa c'è un carattere di a capo. Se per caso nella stringa c'è un punto e virgola. Insomma, dovrei prevedere tutti i possibili metodi di attacco e complicare il mio codice per trasformare la stringa che arriva dall'utente, quindi la stringa che mi arriva a p.getnome, prima di insegrirla, di concatenarla dentro la query, la trasformo con una serie di sostituzioni. Però questa è una gara di furbizia e perseveranza, nel senso che una volta che io ho trovato 100 modi diversi di poter attaccare la mia stringa, a parte che mi sono complicato il codice in un modo decisamente antipatico. Ma poi ci sarà l'utente che troverà il 101esimo. Finché non lo scopro, lo scopro, diciamo così, a mio rischio e a mio danno. Allora, sarebbe bello riuscire a risolvere il problema direttamente alla fonte. Qual è il problema? Il problema è che stiamo mescolando in un'unica stringa due cose molto diverse. La sintassi di una query che voglio eseguire e i dati su cui questa query deve lavorare. Dovremo trovare un modo, e c'è, se no non staremo qua a parlarne, di dire dire direttamente al driver JDBC, guarda, questa è la query, questi sono i dati. In modo che lui trasmetterà i dati separatamente dalla query e non ci potrà essere nessun rischio di ambiguità, perché anche se contengono dei caratteri speciali, quelli comunque sono etichettati come dati e sono trattati come oggetti e non come pezzi di stringa da mettere insieme. Allora, questo problema si risolve usando i cosiddetti statement preparati o prepare statement, che per inciso, oltre a risolvere questo problema dell'iniezione di codice SQL malevolo, possono anche risolvere problemi di prestazioni, e poi cerchiamo di capire perché un unico strumento risolve due problemi insieme. Allora, cosa sono gli prepare statement? Essenzialmente è una cosa molto semplice, quello che dicevamo prima, separiamo la sintassi della query rispetto ai valori delle variabili o dei parametri su cui questa query deve lavorare. Quindi avremo al momento di creazione di uno statement, non una query completa, ma un modello, qui lo chiama template, prendendo la terminologia dello standard JDBC, un modello di query che contiene a un certo punto dei segnaposto, dei punti in cui si dice, vabbè, qui poi va inserito un parametro, qui poi va inserito un parametro. E in una fase separata si forniscono i valori per questi parametri. Quindi io definisco il modello della query, definisco quali sono i punti in cui vanno inseriti i parametri, e questo è uno statement, è un modello di statement parametrico. Lo definisco, non eseguo ancora, perché fino a quando non avrò i valori veri dei parametri non potrò far nulla. Poi quando avrò i valori dei parametri e vorrò veramente eseguire lo statement, dirò che esegui quello statement là con questi valori specifici dei parametri che sono previsti. Due vantaggi. Uno è che separo la parte di preparazione dello statement, diciamo così, di definizione del modello, rispetto alla sua esecuzione. Questo vuol dire che, se faccio le cose bene, posso semplificare la vita al database. Perché il database può analizzare lo statement e decidere come eseguire, fare tutta la parte di ottimizzazione del piano di esecuzione della query, che viene fatta prima di eseguire la query vera propria, la può fare una volta sola. Se io gli dico, guarda, io riuso lo stesso schema di statement, lo stesso schema di query. Se io mando 30 volte la stessa query al database, cambiando i parametri, normalmente per lui sono 30 stringhe diverse e ogni volta ricomincia da capo a leggerle, capirle, vedere ok, devo prendere queste due tabelle, farle in join, uso quell'indice, non lo uso. Lavoro suo di ottimizzazione. Se io gli dico, questo è un modello, lo eseguirò tante volte, lui lo analizza una volta sola all'inizio e poi quando lo esegue sa già come fare, quindi passa direttamente, salta la fase di interpretazione e ottimizzazione che è interna al suo flusso di esecuzione. E l'altro vantaggio è che noi non ce ne siamo ancora, diciamo così, accorti molto, ma l'utilizzo di prepare statement permette di scaricare sulla libreria JDBC non solamente l'interpolazione delle stringhe, cioè infilare il parametro giusto nel punto giusto, ma anche la conversione dei tipi di dato, che è una rogna inennarrabile, perché finora abbiamo lavorato solamente con stringhe, però se voi cominciate a vedere dei numeri o numeri reali con quante cifre ricimale, non parliamo delle date, in che formato le dobbiamo scrivere, giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi, c'è da diventare cretini normalmente a prendere una data che l'utente ha inserito in un certo modo, la metto in un oggetto Java di tipo date, quindi faccio il parsing di questa data, poi una volta che ce l'ho nell'oggetto Java devo riconvertirla in stringhe per poterla passare al database, la quale la memoria è di nuovo in un formato diverso. Abbiamo di meglio da fare nella vita, no? Che metterci a convertire sei volte la stessa data. Ecco, come vediamo dai metodi che vi presento tra un secondo, questo problema nel momento in cui usiamo il prepare statement non esiste più, perché tutta la conversione la scarichiamo sul driver JDBC. Quindi, dal punto di vista sintattico è banale. Quando noi definiamo la query, la definiamo sempre come stringa, in cui però, dove vogliamo, inseriamo dei punti interrogativi, al posto dei parametri. Quindi è una query a sequele normale, un'unica stringa, in cui possono comparire uno o più volte il simbolo punto interrogativo. Il simbolo punto interrogativo sta a indicare qui, poi, questo è un parametro, il valore che sta al posto di quel punto interrogativo è un parametro e te lo specificherò più avanti. Ok? Quindi ho definito qua, l'ho chiamato query, l'ho chiamato template, questa variabile, perché non è una query ancora, è un modello di query. E quindi quando voglio creare uno statement non creerò un oggetto di tipo statement, come facevamo finora java.sql.statement, ma creerò un oggetto di tipo java.sql.prepare statement. L'unica piccola differenza. E quindi, ricordiamo che l'oggetto statement ce lo facevamo fornire della connection, era connection punto create statement, beh, questa volta per l'analogia si chiamerà prepare statement anziché create statement. Cioè mi restituisce un oggetto di tipo prepare statement che è la versione preparata, se vogliamo dire così, del modello che gli ho passato. Fatto. A questo punto l'oggetto statement è pronto, preparato, se non ha qui, chiaramente, per brevità ho tolto tutta la gestione delle eccezioni che possono esserci. E a questo punto, qui immagino ad esempio di avere due vettori di prezzi e di ID da inserire. Tanto per far vedere che quello statement viene riusato tante volte. che riassumo in queste due righe qua dicendo, ok, ho un vettore di prezzi e un vettore di ID da inserire, dove probabilmente saranno questi due. Allora ho un ciclo che vuole eseguire tante volte questa query, ogni volta con dei valori diversi di parametri. Allora, la preparazione della query è qua. L'esecuzione della query sono queste tre istruzioni qua sotto. Poi qui le ho messe in un loop per far vedere che si può fare tante volte, ma magari spesso la useremo una volta sola. Cosa facciamo? Dobbiamo innanzitutto fornire dei valori ai parametri. dei valori attuali ai parametri formali, diremmo, se fosse una procedura. Quindi ho un metodo, ho dei metodi set sullo statement, che sono l'esatto parallelo dei metodi getInt, getString, eccetera, che avevamo sul realSet. Nel realSet avevamo una riga e potevamo estrarre i valori di ciascuna colonna. Qui abbiamo uno statement e possiamo non estrarre, ma inserire dei valori in ciascun, non colonna, ma parametro. Quindi, sullo statement dico, imposta il primo parametro al valore NewPricesD. Questo 1 fa riferimento al primo punto interrogativo in ordine di apparizione all'interno della stringa. Quindi, avessi sette punti interrogativi, avrò sette parametri, set dell'1, del 2, del 3, fino al settimo. Il metodo è un po' grezzo per associarli, però è tutto sommato semplice. E così come sette il secondo parametro al valore Recording6D di, insomma, il valore attuale che voglio passare. Questi metodi sette si differenziano per il tipo del dato che sto impostando. Quindi qui ho un setflot, a cui passo una variabile di tipo float. Avrò un setint, a cui passo una variabile di tipo int. Avrò un setstring, se devo passare una variabile di tipo stringa, come nel nostro esempio di prima. Avrò un setdate, se devo passare una variabile di tipo oggetto date, e così via. Quindi, imposto dei valori attuali ai parametri dello statement preparato, e poi finalmente posso eseguire lo statement. E qui non trovo la differenza nel caso in cui lo statement fosse stato uno statement regolare, normale. Qui avremmo scritto execute, tra parentesi, la stringa SQL. Cioè, la fase di execute o di execute query, avremmo dovuto specificare in quel punto la stringa. Invece qua, la stringa SQL l'abbiamo usata all'inizio in fase di preparazione, non più in fase di esecuzione. Ovviamente il metodo execute, c'è il metodo execute update, il metodo execute query. Esattamente in parallelo allo statement, con la differenza che non dobbiamo più passare la stringa ad eseguire. Allora, questo ci risolve tutti i problemi che avevamo. Perché chi fa l'interpolazione al posto del punto interrogativo, non è più il mio codice, che concatena le stringhe, assumendosi il rischio, ma sto dicendo al driver JDBC, perché poi questi metodi qua sono metodi implementati dal driver JDBC, sto dicendo, guarda, questo è il modello di query, e questi sono i valori che gli deve inserire. Ci penserà lui, che è l'unico che può sapere esattamente come fare, a inserirlo nel modo giusto. Anzi, addirittura, lui gli manda nel database separatamente. La concatenazione della stringa non avviene mai in questo caso, neppure dentro del driver JDBC. Lui gli manda, parlando col protocollo proprietario, col database server, gli manda la stringa, e poi gli manda separatamente i parametri codificati come vuole lui, ma in modo da non creare nessun rischio. Quindi questa è la prassi che useremo sempre, direi. Salvo quei rarissimi casi in cui ho una query che devo seguire una volta sola e che non ha parametri, o i cui parametri sono proprio, proprio, molto, davvero, assolutamente sicuro e certo, che non arrivino dall'utente, ma magari arrivano dalla classe che ho appena fatto, però, insomma, perché corrono un rischio. Quindi a meno di quei casi particolari in cui non ho parametri, useremo sempre questo. E anche, se vogliamo, più leggibile, più veloce, più sicuro. Fine della storia. Nel nostro caso, io, la volta scorsa, ricordate che abbiamo fatto anche l'altro programmino, quello grafico, che non è questo. e che cercava le parole, e io ho già usato questa tecnica qui. Quindi la differenza del DAO che abbiamo appena visto, di fatto sono due metodi che fanno la stessa cosa, però questo lo fa con lo statement normale, quindi interpolando il nome, e abbiamo visto che non ci piace. Con create statement, execute query. Adesso che abbiamo imparato il prepare statement, le stesse cose le facciamo in un modo leggermente diverso. definiamo il template, cerca la parola, il nome, dalla tabella parola, where, nome uguale, punto interrogativo. Non ci sono più gli apici, non è apice, punto interrogativo, apice, perché quello ricercherebbe una stringa che contiene esattamente il punto interrogativo. È un punto interrogativo fuori. Punto interrogativo non si può mettere ovunque, si può mettere al posto delle costanti, dei valori. Quindi non posso scrivere, ad esempio, select di parola, nome, from, punto interrogativo, sperando di selezionare il nome della tabella a runtime in un secondo momento. No. Così che non posso mettere select di parola, virgola, punto interrogativo, per scegliere la colonna a runtime. Perché, ricordate che lo dicevamo prima, la preparazione dello statement significa anche che il database comincia a decidere come eseguirla, come la vorrà eseguire. E quindi, perlomeno, le tabelle e le colonne su cui lavorare, in modo da capire quali indici utilizzare internamente, le deve conoscere. L'unica cosa che posso lasciare per un secondo momento sono i valori delle costanti numeriche, stringhe, date, eccetera. Ma che poi è quello che cambia, normalmente. Questo sarà poi un antipatico se volessimo fare, giocare sull'ordinamento. Perché sarebbe tanto bello dire order by nome crescente o decrescente, e questo crescente o decrescente, ask o desc, ascending o descending, order by nome ascending, order by nome descending, non posso metterla in alcune unica mettendo come punto interrogativo al posto di la parolina ascending o descending. Perché non è una costante, ma è una parola chiave del linguaggio. Quindi, in alcuni casi, ci dispiace che non possiamo andare più avanti con questo metodo. in questo caso ci va benissimo così. Ho un parametro solo, che è la stringa costante da confrontare con il nome. E poi, al livello di codice, connection, punto prepay statement, a cui passo questo modello di query, imposto il primo parametro al valore di p, che in questo caso è una stringa, non è l'oggetto parola, ma è già una stringa, il metodo è leggermente diverso. E poi eseguo la query, execute query. Visto che è una query di interrogazione, una select, ci vuole il metodo execute query, non l'execute update, o l'execute senza niente, come metodo. E da questo punto in avanti non cambia più nulla, nel senso che ho un result set, e dovrò semplicemente scandire, o andare a leggere il result set. In questo caso non ho neanche un ciclo per analizzarlo, perché mi basta vedere se c'è almeno un elemento. Quindi provo a vedere il primo, se non mi istituisce falso, vuol dire che ce n'è almeno uno. Qui non mi interessa quale sia, perché in realtà lo so già, per il tipo di query che ho. In questo caso ho usato un prepay statement, usa e getta, l'ho preparato, ho impostato i parametri, l'ho eseguito, basta, non sto più riusando. Se volessi, no, se fosse per me, se mi accorgessi che questo divenisse un problema di prestazioni, il tempo che ci mette il database a rianalizzare questo statement ogni volta, io potrei prendere questa parte, questa istituzione, e anticiparla. Magari in fase di costruzione del DAO, oppure ancora prima, ancora fuori, avere già pronti degli oggetti di tipo prepare statement, quindi ho all'inizio dell'applicazione quando il programma parte, prende tutti i modelli di query che vuole eseguire e li prepara. E ha tanti oggetti già preparati, che vengono già di fatto salvati dentro la memoria del database, e poi solamente più vado ad eseguirli. Ovviamente è una complicazione in più, perché dovrò avere una fase del programma in cui apro la connessione, preparo gli statement, poi questi qui li devo memorizzare da qualche parte, questi oggetti, prepare statement, in modo che poi il DAO li possa vedere. E non li posso memorizzare dentro il DAO, perché il DAO è un oggetto che crea ogni volta, i metodi di controllo creano ogni volta per poter eseguire un acquirio. Quindi complica un pochino l'architettura, non che non ci siano soluzioni, magari ci arriveremo più avanti. Sappiamo che se volessimo spremere la prestazione anche su questo, dovremmo separare proprio il momento di preparazione del statement dal momento del loro utilizzo. per motivi di prestazioni. Però la quale stiamo facendo soprattutto per motivi di sicurezza, ma direi anche di comodità e leggibilità e chiarezza. Quindi prendiamo l'abitudine di usare questo metodo anziché l'altro. Da adesso in avanti, direi, non c'è motivo per non farlo. Ok. Vabbè, questo era, come dicevo, una mezzoletta in cui parlavamo di questo, tanto per completare la discussione della settimana scorsa e non volevo mescolarle. Non volevo, diciamo, anticiparlo per non buttare troppa carne al fuoco la settimana scorsa. Anche se esercitare tema di questa settimana, se oggi in laboratorio volete già usare questo metodo, nessuno ovviamente protesta. Sta a voi, anche se. Esistono poi, ma lo accenniamo solo rapidamente, non lo trattiamo, dei metodi ancora più avanzati per separare ancora meglio la definizione delle query e la loro esecuzione. Che addirittura fanno in modo che il programma Java non debba neppure specificare la query. Cioè, la query la faccio definire al progettista del database che crea, poi, alcuni database le chiamano statement chiamabili, altri le chiamano store procedure, in MySQL le chiama store programs. Cioè, di fatto, definisco una sorta di macro, di procedura, di funzione, dentro il database, con il linguaggio specifico del database, che è una funzione con dei parametri. E quindi, e lì dentro ci metto la sintassi della query, che viene compilata e salvata dentro il database. Il programma Java non farà altro che richiamare quella query già pronta, come fosse una chiamata di un metodo. e uso un altro oggetto che si chiama callable statement, non è più un prepare statement, ma è un call, diciamo così, una chiamata di un metodo remoto. Questo si usa se si sale di complessità quando si vuole proprio separare chi progetta e ottimizza il database da chi lo deve utilizzare. In modo che l'utilizzatore del database è un esperto, per dire, programmatore di Java, ma non necessariamente deve essere un esperto di database. Quindi, non è detto che debba essere lui che trova la query giusta, più efficiente, ma si definisce un'interfaccia tra il database e l'applicazione, si definiscono quali sono le query che devono essere eseguite e poi ci pensa il database administrator a scriverle bene e incapsularle nelle procedure. E a questo punto chi scrive l'applicazione deve solamente più chiamarle. Questo, se vogliamo, su applicazioni più di larga scala, più complesse. Lo accenno solo perché se vi serve sappiate dove andare a cercare questa informazione. Ok. Fatemi chiudere senza salvare questa cosa qui, se no poi lo salvo per sbaglio. Adesso passiamo all'altro argomento che vi ho accennato. Di fatto, guardiamo insieme un esercizio. Allora, noi avevamo ripartiamo da qua. La settimana scorsa ragionato su questo schema lo rifaccio vedere, lo ricommentiamo perché ci deve entrare in testa questo, no? Perché poi lo schema su cui poi costruiamo. Che è lo schema con cui vogliamo costruire tutte le nostre applicazioni secondo il pattern model view controller. E come dicevo, gli esercizi della settimana scorsa il model non l'abbiamo mai visto, non l'abbiamo mai fatto. Quindi lo aggiungiamo adesso. Ci concentriamo soprattutto su questa classe model. Allora, ricordiamoci cosa stiamo facendo. Noi abbiamo un file fxml che definisce i componenti che vogliamo mettere nella scena. Questo sarà il nostro componente vista. La vista deve fare tre cose. Una, interagire con l'utente e questi sono tutti i fatti suoi della libreria java effects. Una volta che abbiamo creato i componenti, il fatto che l'utente possa scriverci dentro, selezionarli, ci pensa la libreria, noi non dobbiamo fare nulla. Poi deve fare altre due cose invece che ci interessano. Uno è informare il controller quando l'utente ha fatto qualcosa di interessante per il controller, cioè su cui il controller si sia abbonato a qualche evento. Due, la vista, anzi tre, scusate, la vista deve aggiornarsi in funzione delle variazioni dei valori su cui deve lavorare. che se c'è un campo di testo o un numero o uno slider e cambia la variabile sottostante che il programma sta gestendo, quel numero deve cambiare. Se è un programma che misura, che ne so, una temperatura di questo ambiente, se il programma si accorge che la temperatura è cambiata, una sua variabile interna a questo programma cambierà, e beh, vogliamo anche che cambi il numero mostrato nel display della vista, della scena grafica. ok? Allora, è il lavoro che deve fare la vista. Come faccia la vista ad informare il controller l'abbiamo analizzato la settimana scorsa. Cioè, all'interno della vista specifichiamo nel file fxml, specifichiamo qual è la classe controller e specifichiamo anche quali sono i gestori di eventi che vogliamo già pre-registrare per gli eventi principali degli elementi grafici. Poi, nulla vieta di aggiungere degli altri event handler a mano, diciamo così, da codice all'interno del metodo initialize del controller che viene chiamato automaticamente per noi. Quindi, la registrazione degli event handler viene fatta o direttamente nell'fxml o nel metodo initialize del controller. Come facciamo a tenere aggiornata la scena? Finora lo sappiamo fare in modo artigianale, cioè il controller quando sa che è cambiato qualcosa chiama dei metodi set per dire ok, guarda, cambia il contenuto di questa frasetta, di questo campo di testo, di questo valore numerico. Più avanti impareremo un automatismo per farlo, ma non è ancora di questa settimana, che è basato sui binding, che è una cosa architetturalmente anche più complessa, quindi sto cercando di spostarla più avanti. Dove che c'è il modello? Il modello è la classe, o l'insieme di classi, ma per semplicità pensiamo in una sola, che conserva tutti i dati di lavoro del programma. è quello su cui girano gli algoritmi, gli algoritmi veri di analisi, di ricerca, di ordinamento, quello che volete, sono tutti o dentro il modello, oppure, nel caso in cui diventino complessi, in classi che fanno riferimento al modello, che usano il modello. modello è la parte pura dell'applicazione, quella che contiene i dati e quella che, i cui dati servono per far girare gli algoritmi, su cui girano gli algoritmi. la parte modello non conosce nulla di grafica, non conosce nulla dell'utente, non conosce nulla degli eventi, meglio, no? Nel senso che se lì concentro la parte algoritmica e la conoscenza dei dati, oggi potrei risolvere il problema con l'interfaccia grafica JavaFX, domani lo potrei risolvere con un programma via console, via testo, così lo faccio girare di notte, senza un utente davanti, dopo domani potrei incapsularlo dentro un'applicazione web e quindi l'interfaccia sovrastante, il modello e il controller saranno completamente diversi, la vista e il controller saranno completamente diversi, ma il modello e la parte algoritmica me la tengo sana, senza nessuna dipendenza rispetto al modo e quindi il modello è qualche cosa che l'applicazione principale crea e il controller usa, no? Il nostro caso semplice è il controller che usa direttamente il modello, nei casi più complessi a cui arriveremo avremo il controller che attiva un metodo di una classe algoritmo la quale lavora sul modello, in questo caso le operazioni che dobbiamo fare sono talmente semplici la cui logica è o dentro il controller o dentro il modello stesso. Allora come lo realizziamo questo meccanismo? Allora abbiamo detto chi deve conoscere chi? Il controller deve conoscere sia la vista che il modello, l'applicazione anche l'applicazione main essenzialmente deve conoscere tutto la vista la scena la conosce perché è il main che chiama il loader FXML il controller deve conoscere l'applicazione perché si deve poter parlare insieme se non altro per inizializzarlo ma se non altro per passargli il riferimento al modello che l'applicazione principale ha creato e quindi il controller deve al suo interno avere normalmente no questo è il pattern normale il controller conosce un riferimento al modello non lo crea lui ma lo conosce ricordate gli esercizi della settimana scorsa dove c'era quella lista l'ultimo esercizietto in cui vi diceva aggiungi un bottone crea e chi cacchio lo crea quella lista nuova non c'era mai un posto giusto dove crearlo perché se lo facevi in un'applicazione principale poi gli event handler non erano nel 3 giusto se lo facevi dentro l'event handler poi dopo quella variabile lì veniva persa perché quando l'event handler ritornava non c'era modo di modificare la variabile sovrastante e la soluzione è questa un oggetto di modello che contiene al suo interno la lista e questo oggetto è esterno usato dal controller ma è esterno al controller allora io voglio quell'esempio della settimana scorsa però è troppo semplice per poter ragionare su questo questo ragionamento ci serviva però vorrei aiutarci a capire questo ragionamento con un esempio un pochino più complicato ho pensato a questo esercizio qua il gioco dell'impiccato adesso non so non si riesce a ingrandire non ho pensato alla proiezione quindi ho fatto una piccola applicazioncina conoscete tutti il giochino dell'impiccato c'è una parola segreta da scoprire è un certo numero massimo di errori che poi comettete di fare non ho fatto tutta la parte grafica ovviamente ma io posso scegliere una lettera d'alfabeto supponiamo che ci sia una H non è un gran tentativo iniziale ovviamente infatti qua S puntini 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 O ma l'H non c'era mi ha segnalato un errore e qui c'è uno sbarra che diciamo così simula la mia morte progressiva mentre invece se io la parola so qual è ovviamente mettessi una T lui mi aggiunge mi sostituisce non è molto scenografico è questo c'è cosa di udurro all'osso mi aggiunge la T nel punto giusto quindi ha trovato una T e non mi incrementa il numero di errori se invece scegliessi un'altra lettera in questo caso la E che compare più volte lo so e vabbè me la sostituisce tutte no la regola di impiccato è che quando dico la lettera giusta tutte le tutte le occorrenze di quella lettera vengono mostrate poi invece mi incaponisco a sbagliare ecco l'errore potrebbe essere sia inserire lettere che non ci sono sia riscegliere lettere che avevo già scelto prima se rimetto la T sono scemo e mi conta errore di programmazione ma mi ha contato un errore dovrebbe contarmi un errore invece lo conta se io metto due volte più volte la lettera una lettera che non compare quindi c'è un baco nel codice e vabbè lo correggiamo la I c'era no la H io insisto con la H e con la I perché mi piacciono ho messo 10 identativi sono un po' troppi dopodiché quando arrivo ai 10 identativi è gentilmente vabbè la versione minimale no altrimenti se indovino la parola qua a fianco mi scriverebbe in verde anziché in rosso non si vede ma questo è rosso mi scriverebbe hai vinto ci sono modi di farli più belli i giochi però la logica essenziale di gioco è questa vabbè ragioniamo dimentichiamo per un attimo la grafica ragioniamo sui dati e sull'algoritmo su cui questo programma deve lavorare quali sono le informazioni che definiscono lo stato del gioco proviamo a pensare così in termini di stato cioè se io sono a metà partita cos'è che mi dice mi dà tutte le informazioni che mi possono servire per continuare la partita allora la prima informazione che mi serve di sicuro è la parola segreta il programma deve saperla non c'è verso poi dovrà anche avere un metodo per generarne una nuova per cambiarla ma però sicuramente mettiamoci a metà partita la parola segreta è un elemento condiviso che devono conoscere più o meno tutti il numero di errori il numero di errori che ho fatto finora deve essere noto in qualche modo deve essere noto anche il numero di errori massimo che posso fare perché se no il programma non saprebbe quando dire è finito altro cosa abbiamo bisogno di sapere io sto per giocare una lettera F cosa hai bisogno di sapere per dirmi se ho fatto un errore oppure no scusa non capisco tu l'hai detto se è presente la parola ma lo so perché conosco la parola segreta quindi posso andarmela a cercare chi altro ve l'ha parlato le lettere già giocate questo mi serve perché se la F anche ci fosse nella parola ma è già stata giocata cosa che il programma non fa devo contare quindi un'altra informazione devo sapere quali lettere sono già state tentate dall'utente e poi magari ma questa è una comodità potrei avere questa stringa qua che via via viene modificata potrei ricostruirla ogni volta perché io sapendo la parola segreta e sapendo quali lettere sono state giocate posso generare quella rappresentazione lì della parola dove ci sono gli underscore per tutte le lettere della parola escluso la prima e l'ultima che non sono ancora state giocate posso calcolare ogni volta oppure posso calcolare in modo incrementale questo direi che non è una vera variabile del modello può essere una variabile di comodo che il modello usa al suo interno per fare il lavoro in un certo modo ma non rappresenta lo stato lo stato della partita essenzialmente sono queste tre cose il numero di errori la parola segreta e le lettere già giocate sulla base di questo posso costruire tutto allora io posso immaginare di cominciare a costruire un gioco o perlomeno la logica del gioco svincolata dalla grafica dov'è che l'ho messo? in piccato e con questo una classe modello l'ho chiamato semplicemente model in cui ho cominciato a ragionare sulla logica del gioco ho cominciato da qua proprio a fare l'applicazione non dall'fxml quello viene dopo in realtà l'ho fatto prima su un pezzo di carta per immaginarmi come doveva essere il gioco ma poi quando ho cominciato a scrivere il codice ho cominciato da qua adesso ve lo racconto tanto per riuscire a stare nei tempi poi ovviamente sarebbe bello costruirlo insieme e dove qui ho una manciata di di variabili in questo modello riassumo in questo caso in una classe sola le variabili principali che definiscono lo stato del gioco quindi una stringa segreto una stringa risultato la stringa risultato per me era quella con i caratteri sottolineati con gli underscore ho usato uno stringbuffer anziché una string semplicemente perché è più facile andare a sostituire i caratteri dopo che l'ho creata la prima volta perché sapete che le string sono immutabili quindi l'unico modo per modificare un caratteri in una string è quello di creare una nuova e ricopiarci dentro i caratteri tranne quello lì mentre lo stringbuffer è un array di caratteri di fatto in cui posso andare a modificare il singolo carattere ma a parte questa differenza che tutto sommato si arriva si apprezza nel momento che uno comincia a scrivere il codice non è che all'inizio la pensa e poi ho il numero di errori mi ero fatto una variabile anche il numero di tentativi che poi mi sono accorto di non aver usato in questa interfaccia grafica e il numero di underscore mi serviva di comodo per capire quando ho vinto ho vinto quando non ho più nessun trattino non ho più nessun underscore all'interno della parola potrei mettermi ogni volta a contarli però così era più comodo e poi la famosa una lista in questo caso se avessi raccontato se avessi raccontato questa cosa domani anziché oggi avrei parlato di un set anziché di una lista perché domani farete il set ma va bene lo stesso anche una lista che come string potrebbero essere dei char adesso qui non stiamo a fare troppo i pignoli con l'elenco delle lettere che l'utente ha già provato e questo è il mio modello su cui posso definire il gioco allora io che metodi ho definito per questo lasciate perdere l'implementazione immaginiamoci i metodi di cui abbiamo di cui un programma principale avrà bisogno io ho trovato questi cinque nel costruire la mia applicazione devo avere un metodo per iniziare la partita l'ho chiamato new match a cui passo la parola da indovinare non è il modello che deve crearsela da solo perché non sappiamo dipende su questa classe noi vogliamo poter implementare le regole del gioco un pochino che vogliamo per cui potrebbe essere un gioco a due giocatori come quello vero che facciamo su carta quando qualcuno spiega lezione in cui un giocatore inserisce la parola segreta poi cambiamo scena la nascondiamo e l'altro giocatore deve indovinarla quindi in questo caso il new match viene fatto con una parola inserita dall'utente oppure potremmo giocare da soli contro il computer e allora qualcuno che ne so leggendo il nostro database dizionario che abbiamo visto la volta scorsa sceglie casualmente una parola di una certa lunghezza e poi inizia a giocare con quella per la logica della partita è indifferente da dove provenga la parola quindi non è stato fuori semplicemente un metodo new match che inizializza le variabili di gioco lo stato della partita a una partita nuova iniziata con quella parola segreta e poi l'altro metodo di gioco è try prova con questa lettera prova con la A prova con la F prova con la Z prova con la K e lui aggiornerà ovviamente le variabili di gioco in funzione di quel tentativo rispondendomi anche con un booleano del tipo si no è andata bene è andata male adesso lo dobbiamo correggere questo perché siamo accorti che non conta errore quando dovrebbe e poi un paio di metodi di comodità is winner or is dead mi dicono guarda questo qua ha vinto ha indovinato la parola oppure hai traurito il numero di errori possibili numero di errori possibili che in questo caso ho definito come costante dentro il modello ma potrei anche metterla fuori farla definire ma è uno di errori max poi per comodità ho anche un metodo get error progress che mi restituisce la percentuale di errori rispetto al massimo come numero reale tra 0 e 1 e serve per alimentare questa barra di progresso per colorarla devo dare un numero da un double tra 0 e 1 0 vuota 1 piena e i valori intermedi la disegnano questo qua è il mio modello poi ho dei get resetter ma sono quelli standard potrei forse anche non averli tipo un get segreto l'applicazione deve poter leggere il segreto ma forse non so ma li ho messi per tranquillità se mi dovessero servire li uso come li ho fatti quindi qui ragioniamo così poi vediamo il codice vediamo adesso come si integra questo all'interno dell'applicazione quindi io quando progetto questo sto pensando al gioco allo stato del gioco alle regole del gioco e a come può fare un'applicazione principale a usare questi metodi per gestire il gioco ma potrei immaginare potrei provarlo con un'applicazione via console tranquillamente o ci metto un main qua dentro di prova per fare un test di questa classe prima di vestire l'interfaccia grafica oppure un'altra classe un'altra applicazione questo è indipendente da come lo implementerò ok questa è la forza del modello incaffro i dati lo stato i valori senza preoccuparsi di dove di chi li utilizzerà e chi li utilizzerà li utilizzerà nel nostro caso l'applicazione grafica quindi io ho lo vediamo qua una classe principale e una classe controller che completano l'applicazione oltre ovviamente l'fxml che mi fa da vista l'fxml va bene l'abbiamo visto in funzione la classe principale come sempre la classe principale è la tipica applicazione java fx che in queste prime tre righe non fa altro che caricare la vista in pic.fxml l'ho chiamato e lo carica ecco qui ci ricordiamo dalla settimana scorsa che nel caso in cui specifichiamo un controller ci conviene spezzare l'operazione di load in due istruzioni quindi avere un oggetto esplicito fxml loader che lo definisco specificando il file che voglio leggere poi faccio l'operazione di load e mi crea la vista infatti lo chiamavamo sempre root questo elemento qui l'ho chiamato view per ricordarmi qual è il suo scopo nella vita e mi dà il grafo della scena che è la mia vista e poi il controller che è una classe che è specificata dentro l'fxml quindi l'istanza è stata creata dal loader mi faccio dire dal loader senti dammi l'istanza che hai creato dammi un riferimento all'istanza che hai creato altrimenti non saprei non devo creare io il main l'applicazione principale non deve creare la classe controller la classe controller è creata direttamente dal loader però devo farmi dire dal loader si ok tu l'hai creata ma ne ho bisogno quindi se non ti spiace dammi un riferimento è questo get controller quindi in realtà mi servono due riferimenti uno la vista e uno la controller il lavoro di creazione viene fatto tutto qua nel load e quindi ho creato vista e controllo l'ho fatto creare in realtà dall'fxml loader vista e controller e ho riferimenti ad entrambi parent view in questo caso è un border layout view e impiccato controller controller e poi crea il modello vedete che il modello è l'unica cosa che creo io esplicitamente nell'applicazione principale nell'applicazione principale è il registro l'applicazione quindi deve prendere le cose e metterle in contatto prendere i vari attori e metterle in contatto quindi creo l'oggetto di tipo model che è quello che abbiamo appena visto e comunico al controller chi è il modello su cui lui deve lavorare controller.setModel così tutti gli event handler interni al controller sapranno qual è il modello su cui devono lavorare non si devono preoccupare gli event handler di creare nuove dati creare nuove strutture dati eccetera ma devono semplicemente delegare al modello le operazioni sui dati il controller non ha memoria non deve ricordarsi i dati deve delegare al modello che è lui il depositario dei dati tutte le operazioni che hanno a che fare con i dati stessi poi qua ho preso e quindi questa è l'istruzione chiave che tiene insieme incolla i tre blocchi model view controllo da questo momento in avanti il controller era posto nel senso che lui conosce la vista controllo come fa a conoscere la vista? grazie all'iniezione delle variabili fxml che abbiamo visto la volta scorsa tutte quelle variabili chiave fxml che di fatto sono dei riferimenti automaticamente inizializzati alle variabili della vista quindi non dobbiamo più fare look up non c'è più bisogno di operazioni di questo genere il controller quindi conosce la vista la vista ovviamente conosce il controller e soprattutto il controller conosce il modello grazie a questo questo set model è banale ovviamente salvo semplicemente un riferimento se vado a vedere il set model qua è semplicemente un setter si salva il modello in modo che gli event handler più tardi lo possano contattare e poi qua ho preso una scorciatoia avete visto la parola mi sono giocato tutto new match per brevità anziché fare gioco a due giocatori oppure leggere a caso un database visto che andiamo avanti per gradi ho detto vabbè diciamo il name principale decide la parola qui qui ho anche sito tutto in maiuscolo dovrei fare attenzione nel momento in cui se la facessi inserire l'utente dovrei perlomeno convertire tutto in maiuscolo eccetera ma però è una scorciatoia dico il modello ok inizia una nuova parola una nuova partita scusate con questa parola segreta oppure che sto usando new match e non set segreto perché new match non abbiamo ancora visto il codice ma non si tratta solamente di settare il valore della variabile segreto del modello ma di inizializzare tutte le variabili il numero dei tentativi la stringa risultato eccetera sulla base di questo segreto ovviamente dentro setterò la variabile segreto a questo a questa stringa ma non solo quindi non è solamente settare una variabile ma è proprio inizializzare tutte non l'ho fatto lo vedo il costruttore avrei anche potuto fare un costruttore che quando costruisco il model gli passo la parola da indovinare ma così facendo avrei impedito la possibilità di fare più partite mentre io voglio in qualunque momento adesso nell'interfaccia non c'è nulla che lo richiami ma in qualunque momento dico vè comincia una partita nuova una partita nuova significa semplicemente fare un new match una nuova partita a cui gli passo la nuova parola da indovinare quindi disaccoppiamo le varie cose è una classe semplice quella del modello però è stata ho cercato di pensare in modo aperto in modo che poi possa essere usata in modi diversi secondo di come vogliamo costruire l'applicazione sopra ok vabbè poi c'è nel print line solamente per debug che sono qua sotto e vabbè alla fine ho le solite operazioni per incollare la scena allo stage quindi io avevo la view che era l'elemento root l'elemento radice del mio grafo della scena creo una nuova scena con questo elemento root e l'appiccico allo stage che è stato creato per me ma solite cose standard e poi c'è lo show dello stage e qui e qui parte l'applicazione vera e propria questo qui lo diamo tra un secondo e il controller? ma il controller tutto sommato è il più facile di tutti nel senso che per buona metà per una buona metà è generato automaticamente dall'fxml quindi qui ci sono progress bar error bar è riferimento a questo oggetto dell'interfaccia grafica su tutti gli oggetti a cui abbiamo dato nel nello sim builder nell'editor grafico a cui abbiamo assegnato un attributo fxd a tutti gli oggetti a cui abbiamo assegnato un attributo fxd vengono quando generiamo lo scheletro del controller iniettati come variabili error num è questa casella di testo lettera è questa combo anzi questo choice box parola out è questa sotto questa casella di testo qua e poi ho due etichette label morto e label vinto che non si vedono ma ci sono sempre entrambe una con scritto sei morto l'altra con scritto hai vinto semplicemente le ho impostate in uno stato non visibile quindi quando devo mostrare dei messaggi del genere piuttosto che farli creare dinamicamente dall'eventender è più comodo già crearli prima a livello dell'efxml e poi semplicemente mostrare o nascondere adesso vediamo come quindi questi sono tutti elementi 1,2,3,4,5,6 elementi 1,2,3,4,5,6 sono 3 4 visibili e 2 etichette sei morto hai vinto iniettati direttamente qua poi ho il metodo initialize che deve solamente fare un piccolo lavoro di popolare questa choice box no? voi quando create una choice box nell'efxml ci mette dentro item 1, item 2, item 3 se avete provato a farlo o anche con i menu ci mette dentro dei valori finti allora o andate a quel punto l'unico modo è quello di andare a editare a mano il file xml modificando item 1, item 2 con i valori che volete voi oppure visto che li devo generare 26 e sono pigro ho cancellato quegli item direttamente dal fxml e li genero qua al programma no? ho get items che è una collection lettera è la choice box no? lettera è l'elemento di interfaccia utente sono nel metodo inizializzare controller ok? il metodo inizializzare viene chiamato dopo che la scena è già stata costruita quindi tutti gli elementi di scena ci sono già prima che venga mostrata allora lì è il momento in cui posso fare i ritocchini aggiungere gli elementi aggiungere gli event handler e cose di questo cena in questo caso un ritocchino è caricare le 26 lettere dell'alfabeto come vari item di questa choice box prendo la collection get items che è una lista sì qui la chiamo observable list ma questo viene fa parte del meccanismo dei binding e delle properties che vi dicevo ancora l'ultimo argomento che voglio lasciare ancora un po' in sospeso ma questa semplicemente diciamo concettualmente è una lista di item a cui aggiungo ogni volta uno diverso uno nuovo che creò con le lettere dalla A alla Z banale e poi registro devo registrare questo caso l'ho fatto in modo un po' anticonvenzionale anche per così vi faccio vedere esempi di codice diverso anziché far scegliere la lettera e poi mettere a fianco il bottone prova o fai il tentativo io ho voluto provare a intercettare direttamente l'evento di cambio della lettera ok vedete che non devo premere nessun altro bottone semplicemente lo scegliere una lettera mi fa sì che venga diciamo così fatto il tentativo allora devo andare a registrare un evento ad agganciare un evento che non è l'onection di un bottone ma è l'evento che mi indica quando viene cambiata la voce selezionata di quell'elemento di quel choice box allora prima l'ho pensato poi mi sono subito pentito perché ma adesso oramai il danno è fatto quindi ve lo racconto uno si aspetterebbe di trovare tra i metodi questo qua è il nostro fxml questa è la mia choice box uno dice vabbè andiamo a vedere qual è l'evento che devo intercettare e purtroppo non c'è quello che vorrei nel senso che quale evento dovrei intercettare ma qui ci sono tutti gli eventi sul mouse anzi sul drag and drop ma in questo caso in questa applicazione del drag and drop non mi serve quindi lo posso ignorare o gli eventi sulla tastiera key press beh sì potrebbe essere un key typed nel senso che se l'utente volendo credo che funzioni non l'ho provato se vado qua e scrivo r non funziona non funziona però potrei volerlo farlo funzionare in questo caso non è previsto potrei dire ok se l'utente ha comunque il focus su questa casella e premo una lettera l'ho imposto quindi potrei volerlo intercettare ma potrei anche volerlo intercettare il mouse un mouse clicked o un mouse released o un mouse pressed quale evento è un po' una palla perché io il click lo faccio due volte quando apro e quando seleziono quindi dovrei intercettare un mouse click però prende solamente il secondo perché il primo non mi interessa il problema qual è? che questi eventi che ci sono qua poi la rotazione la swipe non le abbiamo perché non abbiamo interfaccia a tocco qua il problema è che questi sono eventi principalmente tastiera e mouse di interazione di basso livello la selezione di una voce di una choice box è più complessa è un pochino più di alto livello cioè la serie di una serie di click il risultato di una serie di click fa sì che quella voce sia cambiata allora non posso non trovo qua un evento comodo a cui volermi agganciare vabbè l'evento lo posso andare a scovare però sotto nel senso dentro l'oggetto a livello di programma per quello non ho fatto un fxml sono stato costretto a registrare l'event handler direttamente in java adesso il metodo chiave è questo add listener aggiungi un listener un event handler un ascoltatore a che cosa? alla variazioni della cosiddetta selected index una delle proprietà adesso questo codice qui per essere comprenutori chiederebbe che dopo che inventeremo le property lo capiremo fino in fondo per ora voglio solo portare come esempio ma prendo la lettera che è la choice box alla sua interna una proprietà che si chiama selected index io voglio che indica che cosa questo selected index indica qual è la lettera che è stata selezionata come index quindi 0 1 2 3 4 5 come numero d'ordine tutte le volte che questa proprietà cambia io voglio essere informato metto un pochino più di basso livello un pochino più interno al funzionamento della libreria impareremo a gestire meglio anche noi queste proprietà per il momento ciò che ci interessa capire è che registro un gestore di evento punto lo faccio in un modo un pochino più complicato perché non è un evento di quelli di interfaccia che sarebbe più semplice da creare come abbiamo fatto finora è un nuovo letter change listener cioè un listener questa è la classe mia è letter change lo creo io che viene chiamato una nuova istanza di questa classe che viene chiamata ogni volta che l'utente cambia la lettera selezionata e quindi di fatto sta facendo un nuovo tentativo questo qui è dove la metto questa classe dove la creo ma posso creare dove voglio ovviamente è una classe che in qualche modo collabora con il controller contiene un event handler e ha bisogno per lavorare di accedere a buona parte delle informazioni note al controller ad esempio questa classe deve poter chiamare il metodo try try lettera e il metodo try lettera è dentro il modello e il riferimento al modello chi ce l'ha? il controller allora io questa classe dovrei passare tutta una serie di così come questa classe dovrà aver bisogno di contattare gli altri elementi dell'interfaccia utente per aggiornare il numero di errori per aggiornare se hai vinto se sei morto eccetera allora dovrei passare a questo event handler tutta la conoscenza che ha il controller lo posso fare in tanti modi posso passare un'istanza di controller un'istanza del model alla classe event handler nel costruttore così come gli ho passato questo qua che è la choice box stessa oppure c'è un altro modo che vi accendo perché non so se l'avete mai incontrato che era quello di creare che è quello e si fa molto spesso con gli event handler di creare una classe annidata un inner class si chiama in java non so se avete mai incontrato questo modo di costruire classi probabilmente con swing questa è la mia classe controller la classe event handler la definisco dentro alla classe controller qui sono dentro la parente di graffa della classe controller dentro il file controller io qua dentro in java mi è permesso di definire una nuova classe che è una classe annidata interna alla classe controller è una classe come tutte le altre ma vive lì dentro il fatto che vive lì dentro vuol dire due cose implica due cose uno che quella classe è visibile solamente dai metodi del controller normalmente quindi potrà essere usata solo da quel controller lì e non dal resto del programma che è un bene perché quello è un event handler deve fare quel lavoro lì non interessa niente al resto del programma due che è la cosa che ci interessa il motivo per cui l'abbiamo messa qua è che ha accesso e visibilità di tutte le istanze tutte le variabili di distanza oltre che tutti i metodi del controller stesso è dentro il controller quindi dentro il codice di questo listener posso usare model.tryletter la variabile model non è definita dentro questo questa classe annidata è definita dentro la classe madre ma la posso usare quindi le classi interne hanno accesso alle variabili di distanza della classe madre che le ha generate ovviamente che le ha create in fase di new quando creo questa classe questa si porta dietro un riferimento alla classe che l'ha generata e quindi può accedere allo stesso livello di visibilità sulle variabili interne che hanno i metodi della classe madre quindi è un buon modo per tenere gli event lander che sono classettine stupide da un metodo solo anziché avere 200 classi sparse in giro le mettiamo dentro la pancia del controller o usiamo se riusciamo quando abbiamo bisogno di usare un metodo già registrato a livello di fxml sarà semplicemente un metodo del controller quando invece dobbiamo registrarci un event lander nostro dovremo creare una classe apposita con il metodo handle in questo caso con il metodo change perché l'evento è diverso e allora un modo abbastanza utilizzato nel caso delle interfacce grafiche è quello di creare classi interne proprio perché hanno bisogno di accedere al controller e quindi il posto più comodo è essere dentro il controller Eclipse lo fa vedere così se andate nel progetto vedete che c'è la classe controller e se espandete la classe controller vi fa vedere che dentro questa ci sono tutte le variabili di distanza tutti i metodi e poi una classe interna la quale a sua volta potete espanderla e avete i suoi metodi cosa fa l'event handler quindi quando qui sono al punto in cui l'utente seleziona una voce a parte la console che sputa informazioni di debug viene chiamato questo gestore il metodo change di questo gestore di evento a cui viene passato di fatto il valore vecchio e il valore nuovo che è stato scelto dall'utente visto che è una variazione il valore vecchio non interessa mi interessa il valore nuovo ed il valore nuovo in realtà me lo passa come numero numero da 0 a 25 io voglio conoscere la lettera corrispondente allora lo vado a chiedere a the list che di fatto è la lista di voci della choice box io avevo messo dentro quella lista le lettere dalla A alla Z in ordine lui mi dice l'utente ha selezionato la quinta allora io chiedo la lista dicendo senti qual è il valore del quinto elemento anzi se mi dici 5 è il sesto elemento perché partono da 0 e lo uso qua quindi newValue.inValue mi dà il valore intero della posizione delis.get dammi l'elemento che è una stringa che è la posizione 5 e quindi quando l'utente seleziona il quinto elemento io voglio però in realtà sapere che quella è una R o un quinto elemento è una F l'elemento numero 5 che è il sesto è una F e quindi estraggo la lettera ma questo se vogliamo è andare a estrarre il valore e poi il vero lavoro che fa questo è chiamare il metodo try letter del modello fai la mossa quindi devi intendere è stato chiamato perché l'utente ha scelto una voce qui lavoro un pochino per capire qual è la lettera selezionata dall'utente e poi la passo al modello il modello farà le sue cose e poi chiamo questo metodo update view che è un metodo del controller che non fa altro che andare ad aggiornare tutti gli elementi di interfaccia grafica sulla base dell'esito della mossa corrente quindi tra i letter che viene chiamato direttamente dal dall'event handler fa la mossa effettivamente poi la day view dirà va bene allora devo aggiornare l'error num la casellina con il numero di errori cosa ci metto dentro ci metto model.get numero di errori chiedo al modello qual è il numero corrente di errori 10 allora metto 10 in quella casellina di test chiedo al modello qual è la percentuale di morte 0,7 la metto nel error bar set progress è il metodo la parola get risultato è quella con il trattini sotto e poi ho i due label label morto label vinto su cui lavoro sull'attributo visibile set visible vero set visible falso e mi faccio dire se deve essere visibile o no dal modello quindi quello che dicevamo la vista informa il controller il controller chiama il modello affinché lui modifichi i dati e poi c'è il percorso inverso che il controller interroga il modello per prendere dei dati che vanno ad aggiornare la vista dopo la mossa quando vedremo il meccanismo di binding vedremo che buona parte di questo può essere automatizzato quindi non deve farlo esplicitamente il modello però lo facciamo a mano ok quindi questa è un po' la logica cercare di separare bene quello che sono le operazioni sui dati da fare dal riuscire a farle richiamare dall'interfaccia utente che poi nasconde 2000 piccoli trabocchetti di difficoltà proprio dovute alla libreria java effects ma la logica del gioco che non abbiamo visto perché quei due metodi trai e qual è l'altro sì essenzialmente il try e il new match non ve li ho aperti adesso ve lo potete scaricare ve lo potete guardare ma quello è codice java semplice ok quindi proviamo a imparare un po' questo metodo grazie a tutti grazie a tutti